Tom e Jerry stanno per ricominciare nella grande città. Questo hotel sta per ospitare il matrimonio del secolo. Ritiene di avere le carte per questa posizione? Io brillo sotto pressione. Un'altra cosa. C'è un problema di topi. Come ha detto, quel roditore ha spacciato. Non faccio mandare le domine a questo hotel da un gatto e un sapo. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'info box e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!